3, 2, 1... Io il morto per indinguinare non lo voglio, eh! Sono una classica donna fragile, cornuta, ma non è vero! Io non so fragile! Però sei cornuta! Mamma, ma chi ti ha portato qui? Ma questi chi sono? Sono tre stronzi! Ma quale caratteristica? Ma perché gialla Sereno? I giri urbani? Ufficio di emozioni? Mi hanno fregato la macchina! Mi hanno occhiato a questa analisi, c'è qualcosa di strano. Ma Amedeo! Adesso il problema è come dirglielo? Voi cosa dovevate dirmi? Si parte e si va in vacanza! Che bel regalo che mi avete fatto! Purtroppo non è una vacanza questa! Lo dico a te, lo dico a te! Mi piacerebbe sapere cosa pensate di me! Se poi te la dico io, la verità su di te! No, no, Amedeo Prodi le va stamane! Ci sono andata a letto! No! Io spero che tu, in questa cazzata, gli abbia detto però la verità! Voglio le hai detta! Questa vacanza è diventata una cosa surreale! Professore! Ah! Ma voi siete tuzzozzoni! Ma che mi avete messo in mezzo? Ma voi ne va fare un dog!